Fusi dati dell'ottavo rapporto comuni-recicloni Puglia 2015 di Lega Ambiente che fotografa lo stato della raccolta differenziata nella nostra regione. I comuni capoluogo di provincia più virtuosi, Andria e Barletta, così come più virtuosa è l'intera provincia di Barletta-Andriatrani. Ma ci sono anche i cosiddetti comuni indifferenti. Allora andiamo a scoprire insieme chi sono i promossi e chi invece i bocciati. In Puglia siamo ancora lontani da una gestione sostenibile dei rifiuti. I comuni-recicloni continuano a rimanere purtroppo una piccola minoranza e la nostra regione rimane ancorata ad una gestione dei rifiuti novecentesca troppo legata all'uso della discarica, dove finisce il 75% dei rifiuti urbani. La denuncia è del presidente di Lega Ambiente Puglia, Francesco Tarantini, in occasione della presentazione dell'ottava edizione di Comuni-recicloni 2015, il rapporto regionale di Lega Ambiente che fotografa lo stato della raccolta differenziata nella nostra regione nell'anno 2014 e nei primi mesi del 2015. Salgono a 38 i comuni virtuosi in Puglia, di cui 20 sono ricicloni. Sono 8 invece i comuni pugliesi a cui va il premio di seconda categoria per aver raggiunto nei primi nove mesi del 2015 una media percentuale pari o superiore al 65% di differenziatra, tra cui abbiamo San Giorgio Ionico, Barletta, Faggiano, Adelfia. 10 comuni invece che ricevono la menzione speciale teniamoli d'occhio per aver raggiunto nei primi nove mesi del 2015 una media percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, tra cui Massafra, San Ferdinando di Puglia, Anzano di Puglia e Roccaforzata. Continuano a rimanere poco soddisfacenti invece anche per questa edizione i risultati conseguiti dai capoluoghi di provincia, ad eccezione dei comuni di Andria e Barletta. Brindisi e Bari invece sono ferme rispettivamente al 32,2% e al 28,8% di raccolta differenziata, mentre Foggia chiude la classifica con un misero 7%. La provincia Bat, insomma, rimane la più virtuosa con ben 7 comuni su 10 che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta. Nell'edizione 2015 di Comuni Recicloni Puglia sono però ben 32 i comuni pugliesi che rientrano nella categoria dei cosiddetti indifferenti, ovvero le amministrazioni che nei primi nove mesi del 2015 non raggiungono nemmeno il 10% di raccolta differenziata, tra cui ci sono Lecce, Minervino Murge, Poggiorsini, Zapponeta, Peschi, Ciro di Garganico, Martina Franca, Gallipoli, Noicattaro, Cerignola, Foggia e Palagianello.